Gianni Crosio, come commenta l'accordo su Alitalia? Ma è difficile commentare perché non conosciamo i termini di questa lettra, è molto segreta. Siamo molto preoccupati perché non si può fondare il rilancio di una compagnia nazionale unicamente sugli intenti, seppur economici, da parte di un vettore straniero. Tutto dovrebbe passare attraverso un piano industriale, ma il nuovo padrone, il piano industriale, vedrà di modularlo sicuramente in funzione dei propri interessi e non in funzione degli interessi del nostro Paese. Per cui noi siamo seriamente preoccupati sul fatto che questo piano industriale non terrà conto dei nostri lavoratori e non terrà conto della logistica dei trasporti del nostro Paese, ma terrà conto della logistica dei trasporti e delle necessità di Etihad e di Air France. Questo ci preoccupa molto, l'ha detto anche questa mattina il governatore di Regione Lombardia, Roberto Maroni, che si è detto molto preoccupato in modo particolare per quanto riguarda il futuro di Malpensa. Noi crediamo che, se abbiamo capito bene, avremo una sorta di linate che andrà a cannibalizzare il mercato di Malpensa. Questo sarebbe molto negativo nel sistema trasportistico del Paese, oltre che un approccio molto sommario e, come dicevo prima, non nell'interesse del nostro Paese, in modo particolare degli aeroporti e del Nord, ma per qualcun altro.